Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts Re-Chain of Memories e siamo sempre su Reverse Rebirth Siamo sempre in compagnia del nostro caro amico Riku e siamo qui al quarto piano E qui abbiamo l'ultimo mondo da visitare o meglio città di Halloween Città di Halloween Halloween Town Boom Ma non l'avevo colpito? Oh finalmente le carte alte Oh la Oh Ma perché avevo dato una 3 e mi ha diventato tutte le carte? Oh Vai Lo colpito Shadow Ah 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 mondi combinati perfetto wow così poco mi ha dato di vita wow da che tolgo no eh vai voilà 5 tavolo io paro blu non ne ho vai chiave del principio morbidi wow wow anche dai non fanno niente vai non adesso non adesso non adesso non adesso dai dai vai go dam come on come on baby come on boom you won't make a door vai 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 va a farmi il tuo morbidi ancora ora oh 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 vai morbidi oh ancora dai che è l'ultimo oh 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 porca miseria te oh 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 ok ah ok battuto perché ma ha annullato il focago scura di prima? se no l'avrei già battuto prima morbidi e voilà bau bau il bau bau quindi andiamo ah finalmente fuori e che spadone a e controlli the darkness cast away your useless fear open your heart embrace the darkness and if I say no then you lose both light and darkness and disappear oh oh ok perfetto vai 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 duello ok ok bel colpo ancora vai dai no no con una carta vai si si gioco una 9 no una 9 t'ho detto vabbè non che questa va bene dai ok che cosa è l'anno avendo che cosa è che cosa è Eee, vabbè, ma... Uh, gliel'ho fermato, almeno. Non riesco a trovare le carte, mo! Bel colpo! Bel colpo! Sì! Yeah! Con solo i duelli. Olè! Battuto! L'exhaus. Direi aumentiamo la vita. Poi. Attacco. E basta. Sono salito di due livelli. Perfetto. Boom! Aia, che importa! Oh. Cheap. 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 E qualcosa di più? Ora vedo te, chiaramente. Lexius? Riku, posso vedere il tuo cuore. Non, non è. La scuola questa faule potrebbe solo, solo essere... Questo è tutto, ricordi me. Devo provare il tuo cuore. Ansem! Hai chiamato il mio nome. Hai pensato a me. Hai scoperto della scuola che mi permesso. E... Buono. Il più che pensi di me, il più vicino il mio arrivo. E quando mi sono iniziato, io prendo l'occhio. Il tuo cuore sarà mio! Riku, fight! Non lo farai! Il tuo cuore! 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 Perfetto, usciamo dal quarto piano. Lexius is gone as well. Vexen, Larxene, Lexius. I wonder who will be next in line. I thought perhaps it might be you. Me? No way. I already took my pounding from Sora. He thinks I'm done for good. No, I think it'll be Marluxia next. For defying the organization and targeting Sora. I hope he moves exactly as his heart commands him to. So, what about you? I thought you guys had plans for Riku. Yes. We were going to set him off against the traitors. But with Marluxia gone there is no more need. He is nothing but a nuisance now. And he's dangerous as well. After all, he took down Lexius. You know, that is not how I do things. Tell me, did you obtain the data on Riku's home? What? One of the senses died. A really strong one. Huh? The keeper of this castle, Marluxia, has just been felled by the Keyblade Master. Keyblade. You mean Sora? Sora is here? Yes. Want to see him? But, can you face him? What's that mean? The world of darkness and Ansem's shadow still nest within your heart. Do you plan to face Sora like that? Are you not ashamed? Sora's fate is to battle the darkness. He must oppose anyone who hosts the dark. In other words, it's you. If you don't believe the words I say. Then you had best see the truth with your own eyes. This card. This is our... Yes. It is your home. Isola del destino. Molto! Bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E... Alla prossima! Ciao, belli!